Ciao, ciao, è il 26 ottobre 2013, siamo a Colletorto in Molise, Italia, lo sentite questo rumore è mio padre che dorme, ha fermato la liberatoria, eccolo là, domani andiamo a cogliere le olive, ha con l'odore, è solo che io non riesco a prendere le sogni, vabbè ci provo, buonanotte, oggi è domani, il 26 ottobre 2013, ora devo andare a spegnere la luce, a presto, Grazie a tutti.